Noi siamo Tempesta nasce da un'idea semplice e geniale perché anziché parlare di eroi che gesta, di persone che hanno agito in solitario, non parlare di quelle vicende in cui persone del tutto comuni hanno saputo unire le proprie forze per realizzare qualcosa. Ed ecco quindi che Michela Murcia ci propone 16 storie, più o meno note, di imprese corali. Quindi andiamo da storie antiche tipo la battaglia delle Termopili a episodi più recenti come la vicenda delle madri di Plaza De Maio e ancora alla nascita di Wikipedia. La stessa grafica è pensata in questo senso, è stata affidata infatti a questo studio grafico che ha sede a Milano, che nasce dalla collaborazione stretta di tutti i membri che si fanno parte. Si tratta quindi di storie in cui è valso il famoso motto dell'Unione fa la forza.